Ciao a tutti ragazzi e ragazzi qui dal vostro Diablotex, passiamo subito con questo unboxing Sto parlando di Persona 5 Premium Edition in questo caso Ragazzi io sono stato a Roma quindi sinceramente del gioco non me ne stava fregando un cazzo Vi dico la verità di come stanno le cose, pensavo ad altro Quindi sinceramente in questo periodo qui a me dei giochi me ne importo una sega Ecco lo dico veramente senza girarci troppo intorno perché tanto la verità è questa Comunque andiamo subito avanti, qua buttiamo le carte per terra, faccio il brado maleducato Va bene? Allora ecco qui ragazzi la confezione che bella è la Premium Edition però Poi anche il gioco sembrerebbe essere fantastico quindi Non è un gioco da bimbominchia questi quindi Bimbominchia è un consiglio dal vostro Diablotex State lontani da questo gioco perché non è per voi, non capite un cazzo Ok ora possiamo andare tranquillamente avanti Apriamo, apriamo tutto ma si apriamo tutto Se uscirà mai qualcosa fuori Poi farò anche qualche foto per mettere tutto in esposizione bene E beh vabbè ragazzi che confezione Magari le collector fossero tutte così Magari, guardate che bello Guardate qui E poi dietro guardate qui che spettacolo ragazzi Vabbè questa è una collector da intenditori capito bimbominchia Tu pensi a Carlo Fiudi, questo è Persona 5 quindi non posso dirti nulla insomma Ma allora apriamo il copanetto Sperlari Questo è un copanetto Sperlari attenzione Vediamo cosa c'è dentro eh Bimbominchia attenzione Non prendere questo gioco perché non ci capisce un cazzo Allora noi mi rivolgo ai bimbominchia ogni tanto ragazzi E allora vediamo un po' Qui c'è un artbook da aprire Giustamente io devo aprirlo perché se no a voi Chi cazzo vi vuol sentire? Chi cazzo vi vuol sentire a voi? Vabbè vediamo un attimino Qui nel frattempo al corridoio parlano anche i suoi registi Non se ne fregano un cazzo Vabbè Sono piccoli dettagli questi Sono piccoli dettagli Insomma Bimbominchia ti consiglio di mangiare le noccioline insieme a Gabbani Insieme a Gabbani Durante occidentali scarma Capito? Allora No parlavo un attimo con i bimbominchia Tranquilli ragazzi Allora ecco qui l'artbook di Persona 5 Veramente ben fatto Rilegato al punto giusto Veramente legato come Va fatto insomma Ora voi volete vedere un po' tutte le pagine Ma non ci pensate minimamente Che vi faccio vedere tutte Perché non è che sono qui a pettinare Persona 5 Io Allora Allora vediamo un po' cosa posso farvi vedere Ecco qui Guardate che bello l'artbook E vabbè ragazzi E vabbè C'è anche la zanzara che vuole rompere i coglioni Qui eh vabbè L'ho vista passare L'ho vista passare Ecco qui Ben disegnato La zanzara Se ti prendo ti spiccico contro il muro Con una mia bella ciabatta So io poi cosa ti faccio Zanzara maledetta E' una zanzara bimbo minchia Quella ragazzi Che passa Allora vediamo un po' Ecco vi faccio vedere qualche foto Anche un po' colorata No Qui Foto Qualche Vabbè ragazzi Non rompete più Dai questo è l'artbook Insomma un po' l'avete visto Va bene E così Ritorniamo ad aprire il cofanetto Sperlari E troviamo Eh guardate che bel peluche Mi fa tenerezza questo peluche Mi fa pensare a qualcuno Allora 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 Vedo questo peluche E penso a qualcuno ragazzi Allora 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 Ma cosa cazzo cade Cioè non lo so io Cioè metto i foglietti Ma guardate che bello questo peluche ragazzi Guardate quanto è bello Capito bimbo minchia Tu questo non puoi capirlo Guardate poi dietro qui Eh beh La codina che c'ha Eh beh Una collector veramente ben fatta Una collector Ogni tanto diciamo Ci trattano bene anche a noi Ogni tanto ragazzi Eh perché voi sapete che In Italia queste perle Ne arrivano veramente poche Poi andiamo ancora avanti Cosa troviamo dentro Troviamo la colonna sonora del gioco E sinceramente Potevamo metterlo in una confezione Un pochettino più Va beh Ecco qui E ci sono esattamente 19 pezzi ragazzi Eh Ecco qui Questo è il cd All'interno Ok Detto questo Possiamo proseguire avanti E troviamo Persona 5 In versione Steelbook Edition Che adesso Andremo subito Ad aprire Andremo subito Ad aprire Ragazzi Eh Ecco qui Guardate che bello Voilà Qui si sfila tutto Poi Dietro c'è questo Allora Il gioco Nei vostri hard disk Occuperà esattamente 20 giga Se non qualcosina in più Va beh Guardate qui ragazzi Che bello E' veramente ben fatta Veramente ben fatta Questa steelbook E non avete visto Ancora nulla E non avete visto Ancora nulla Qui c'è Va beh E' una collector Veramente fatta bene Ragazzi E' veramente una collector Fatta bene Non si può dire nulla Vi faccio vedere Il blu ray Di Blu ray Di gioco Insomma Ecco così Tutti un po' più contenti Allora Eccoci qui Guardate qui Che bello Ok E guardate dentro La steelbook Che bello Ragazzi Guardate qui C'è Una collector Da panico Questa Da panico Da panico Rimettiamo il blu ray Prima che magari Si graffi O qualcosa Poi mi tocca Smadonnare Come non mai Allora E poi troviamo Il pezzo forte Questa può servirmi Tra poco ragazzi Perché vi spiegherò Subito Ok Vediamo Vediamo Apriamo questo Poi dentro Non c'è più nulla Il copanetto Sperlari Vedete Non c'è più nulla Ragazzi Ebbè Quante cazzo Ne volete Anche voi Allora Troviamo Troviamo la borsa Da viaggio Vedete che bella La borsa Da viaggio Di persona 5 Ragazzi E dentro Vediamo un po' Come è foderata Perché Giustamente Voi volete Vedere tutto Siete dei balordi E anche Foderata bene Dentro Vedete Stile Anni 25 Insomma E anche Bella Foderata Va bene Così Insomma Che questa borsa A me potrà servire Per tornare a Roma Dal 18 aprile Perché dal 18 aprile Si rifermerà il canale Fino al 21 aprile Perché io torno Il 21 ragazzi E lo so Diciamo che adesso Viaggerò un pochettino Perché mi tocca Di diritto Detto questo ragazzi L'unboxing Si conclude qui Ma adesso Farò un set Fotografico Come sempre Così mettiamo tutto Per bene Lì sul tavolino Con la bandierina Di Valentino Rossi Per creare Tutta un'atmosfera Come sappiamo Allora Questo è stato L'unboxing Di Persona 5 Della Premium Edition In compagnia Del vostro Diablotex Un consiglio E bimbo minchia Gioca a Call of Duty Giocate Non rompete i coglioni Allora L'unboxing Di Persona 5 Si conclude qui ragazzi Un saluto a tutti Al vostro Diablotex Appuntamento Con i prossimi Unboxing E gameplay Ciao a tutti E alla prossima ragazzi Ok ragazzi Allora ecco qui Persona 5 Ve lo faccio vedere Un pochettino più Da vicino Insomma Qui è lunga La confezione No? Quindi La Premium Edition È questa Vi faccio vedere un po' Più tutto Da più vicino Perché io Faccio le cose Fatte bene Non le faccio per nulla Per niente Diciamo Ok Guardate qui L'artbook Ragazzi Che bello Guardate qui Che bello L'artbook Qualche pagina Qui da vicino Posso farvela vedere Tranquillamente Poi non ci allarghiamo Più di tanto Perché Non è che sono qui A sfogliare i giornaletti Insomma E che cazzo Allora 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 Ecco qualche pagina Ok Va bene così Va bene così Questo è l'artbook Poi troviamo Qui La confezione Che avete visto prima Dove conteneva tutto No? Guardate che bello Guardate qui Che bello E poi Il retro Eccola qui Cambia tutto E si apre In questo modo Insomma E ci rimettete Anche i baci Perugina Ma E va bene Poi c'è il peruche Guardate qui Il peruche Che bello Guardate qui Dove vai Eh Veramente Ben fatto Eh Eh Mi fa pensare Mi fa pensare Si Questo peruche Mi fa pensare Poi Cd della clonna sonora Che bel naso Questo eh E beh Ci può stappare Tranquillamente I lavandini Con questo Allora Poi Qui Ci va infilata Giustamente La steelbook Ragazzi Giustamente Qui la steelbook Edition Ci va Infilata dentro Guardate qui Che bella La steelbook Ragazzi Di persona 5 Guardate che bella Maremma Imprigionata Oh Guarda qui Eh eh Bimbo minchia Cosa cazzo Vuoi capire di questo Allora Poi troviamo Dentro Giustamente Questo Che serve Non serve Qui abbiamo Abbiamo Il blu ray Di gioco Che devo ancora installare Giustamente Perché Devo ancora installarlo Ok Va bene così Guardate ora All'interno Della steelbook Che figata Ragazzi Guardate Che figata E poi La steelbook Eccola qui Insomma È Veramente una confezione Ben fatta Eh sì Eh sì Ok Poi c'è la borsa Ecco la borsa Ragazzi Vedete che bella Borsa Mi servirà Per il viaggio Del 18 aprile Capace che la porto Eccola qui Eccola qui E insomma Ragazzi Questo è stato L'unboxing Di persona 5 Premium edition Se vi è piaciuto Bene Se non vi è piaciuto Bene uguale Me ne importa una sega Eh E niente ragazzi Il vostro Diablo Dex vi saluta qui Adesso farò Qualche foto E Chiudiamo qui l'unboxing Ciao a tutti ragazzi E appuntamento Con i prossimi video Yeah Grazie a tutti Grazie a tutti.